Ciao amici di Mr. Gadget, voglio farvi vedere un oggetto veramente strepitoso, è questo che c'è dentro questa confezione da James Bond, si chiama Mevo Camera ed è in pratica questo oggettino che vedete in questa posizione, in realtà tutto questo viene completato da questo cilindrone che vedete si aggancia in questo modo e poi si assicura qua nella parte posteriore, questa è la batteria supplementare ed è in pratica anche l'estensione, una sorta di docking per avere un attacco di rete ma anche per inserire volendo una chiavetta USB, una chiavetta 3G o 4G per la connessione dati verso l'esterno, adesso poi vi spiego anche perché, in realtà la telecamera, questa videocamera, questa sorta di webcam può funzionare anche in questo modo, cioè con la sua base, vedete qui c'è l'attacco anche classico per il supporto dentro la confezione che questa è extra, questo è un accessorio da comprare a parte, trovate un cavo USB molto lungo per l'alimentazione, l'eventuale collegamento al computer per far funzionare Mevo Camera, ma a che cosa serve Mevo Camera? Esattamente a fare live su Facebook o su live stream utilizzando una tecnologia più avanzata rispetto a quella del vostro telefonino. Vediamo esattamente il funzionamento, per farlo ho bisogno di uno smartphone, vedete in questo caso del mio iPhone, perché Mevo funziona solo ed esclusivamente attraverso, scusate devo chiudere l'applicazione e tornare ad aprirla poi successivamente, c'è qualche problema, dicevo Mevo funziona solo ed esclusivamente attraverso l'uso di iOS, vedete mi chiede di accendere la mia camera, io lo faccio subitaneamente, una volta collegata la camera, la camera quando si accende va alla ricerca della rete a cui collegarsi, quindi bisogna scegliere che tipo di connessione fare, cioè se utilizzare un hotspot che poi sfrutta il collegamento del telefono oppure come nel caso io ho scelto quello di collegare la Mevo direttamente alla vostra rete, per farlo utilizzate questo sistema, cioè quella della configurazione direttamente della Mevo camera, vedete adesso sta andando a cercare i collegamenti, qui ci sono tutti i collegamenti wifi, potete decidere a che cosa far collegare la vostra camera. Dopo che avete deciso questo dettaglio entra in gioco invece il funzionamento della camera è vero proprio, ma qual è la differenza? Allora adesso voi vedete, usiamola magari inquadrando uno spazio più grande come quello magari di un ufficio, allora quello che è assolutamente strepitoso è che io cliccando sulla immagine larga che voi vedete posso scegliere di fare una sorta di regia, allora questo è ciò che viene inquadrato dalla webcam, vedete quello che verrà trasmesso anche su Facebook, vedete io posso fare una sorta di regia facendo vedere dei dettagli di ciò che viene ripreso, guardate sempre il quadratino piccolino, non guardate la camera nel suo interezza, vedete io posso scegliere essenzialmente di mostrare dei dettagli, lo vedete sempre qua sopra e nel caso anche di spostare, di grandire la ripresa, guardate sempre in alto che cosa succede, vedete se io sposto la ripresa in questa posizione anche l'inquadratura della telecamera lo fa, vedete in questo momento che si è spostato lì in alto, che cosa posso fare? Posso registrare in alta definizione, posso trasmettere attraverso live stream oppure attraverso Facebook live, quindi con la trasmissione live, in questo caso io sto ad esempio scegliendo l'apertura rispetto diciamo alla inquadratura ampia, posso anche essenzialmente chiedere alla telecamera di spostarsi automaticamente seguendo essenzialmente i movimenti che vede cercando le facce e soprattutto andando a seguire anche le sorgenti sonore grazie ai microfoni direzionali, posso anche scegliere di fare una sorta di autoregia che può essere più o meno veloce nel movimento delle camere, quindi posso decidere se il microfono della mia camera è quello proprio incorporato nella Mevo oppure se voglio utilizzare il microfono di iPhone perché magari in determinati momenti è più comodo e oltre a questo posso anche fare la scelta appunto del tipo di diciamo filtro colore vedete normale particolarmente vivo bianco e nero oppure il sepia, posso anche gestire ovviamente la mia telecamera quindi la mia videocamera con i collegamenti decidendo che tipo di servizi voglio che siano utilizzati, posso anche scegliere essenzialmente vedete che come gestire le funzionalità della telecamera, semplicemente anche come si comporta quando io schiaccio il bottone, che cosa succede nel caso in cui dovesse perdere la connettività con il telefono mentre si è in diretta, quindi una serie di funzionalità volte come detto alla gestione di una diretta su Facebook oppure volendo attraverso live stream potete fare l'embed in un qualsiasi sito internet. Guardate per in particolare magari di piccoli eventi, delle situazioni che vogliono essere un po' più complesse semplicemente del mostrare il vostro cagnolino che abbaia è veramente un oggetto molto molto interessante, vedete semplicemente cliccando sul vostro telefono potete essenzialmente scegliere che tipo di riprese fare, volendo anche in questo modo potete essenzialmente voi selezionare il tipo di ripresa che viene fatta e anche fissare una serie di scene attraverso cui il telefono può ruotare, cioè l'applicazione può ruotare per la trasmissione. Io trovo che questo sia un oggetto veramente interessante, si chiama Mevo, si trova solo online ad un prezzo intorno ai 399 dollari, dovete pagare però a parte anche la dogana che non è compresa in questo prezzo. Se volete anche la batteria supplementare per avere diverse ore di autonomia e per poter avere anche l'attacco cablato e la custodia anche per il trasporto, invece il prezzo sale intorno ai 699 dollari con all'incirca 200 euro di dogana. Quindi insomma non è sicuramente una spesa così da sfizio se non avete un interesse diretto per fare dei live su internet, però devo dire che è un oggetto veramente interessante e soprattutto con una qualità video notevole. Insomma questo è veramente un gadget da Mr. Gadget. Ciao a tutti!